Buongiorno a tutti e benvenuti nella rubrica dedicata ai più piccoli. Oggi impareremo a salutare e scopriremo quali sono i suoni della lingua cinese. Come si dice ciao in lingua cinese? Hai notato che sopra alcune lettere ci sono dei segni? Sono quelli sopra le lettere in rosso. Si chiamano toni e sono molto importanti per la pronuncia delle parole. In cinese i toni sono quattro. Impariamoli insieme. Adesso ripeti dopo di me. È arrivato il momento di ascoltare insieme una canzone, la canzone dei toni. A A R Ah! 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 Questo è il nostro canale! Questo è il nostro canale! Ma! Ma! Canapa! Ma! Ma! Cavallo! Ma! Ma! Insultare Siete stati bravissimi! La nostra lezione è finita! Adesso provate a disegnare un cavallo! Appuntamento a domenica prossima quando impareremo il nome in cinese di alcuni colori! Grazie! 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 Grazie!